Vabbè, insomma, partiamo dai più elementari, radice di x più 1 Vabbè, qui uno dice, faccio il quadrato Cosa ottengo? x più 1 uguale a 81 e quindi x uguale a 80 Trovate la soluzione e cosa faccio? Sostituisco x uguale a 80 e vedo che radice di 81 è uguale a 9 Quindi ok, la soluzione è buona, x uguale a 80 è una soluzione buona Secondo esercizio, quello dopo, uno ha radice di x più 1 uguale a meno 9 Volendo anche qui faccio il quadrato Se faccio il quadrato succede esattamente come prima, che x più 1 è uguale a 81 E quindi x uguale a 80 Ma quando sostituisco E ottengo Radice di 81 uguale a meno 9 E quindi la soluzione non va bene Quindi no Questo è un esempio messo per far vedere come facendo il quadrato In tutti e due casi viene la stessa cosa Ma la soluzione in un caso è accettabile Nell'altro caso no Quindi in questo caso ho 0 soluzioni In questo caso sotto ho 0 soluzioni Cioè nessuna soluzione E nel caso sopra ho una soluzione Cioè x uguale a 80 Questa diciamo è la maniera più semplice di accorgersene Cioè facendo la verifica alla fine E' chiaro che uno poteva prevederlo a priori Ad esempio qua Uno cosa dice? Radice uguale a cosa positiva Facendo il quadrato Uno dice vabbè Dovrei imporre che l'argomento della radice sia maggiore o uguale di 0 Ma impogli che sia 81 E' ben più che impogli di essere maggiore o uguale di 0 Quindi qui sicuramente va tutto bene Positivo, positivo, posso fare i quadrati Qui positivo e negativo Uno lo vede da subito che non ci sono soluzioni Uno poteva rispondere immediatamente Non ci saranno soluzioni Perché a sinistra è positivo quando esiste E a destra è meno 9 Non va bene Va bene, andiamo avanti con La prossima equazione con le radici che si incontra qui E' radice di x quadro meno 5x più 5 uguale a 1 Radice di x quadro meno 5x più 5 uguale a 1 Facendo il quadrato Faccio il quadrato e dove arrivo? x quadro meno 5x più 5 uguale a 1 Fatto il quadrato e il quadrato di 1 fa 1 Quindi facendo i conti x quadro meno 5x più 4 uguale a 0 Quindi x, due numeri che moltiplicati danno 4 E sommati danno 5 4 e 1 Siamo sicuri che siano accettabili? Dobbiamo sostituirli? Va bene Potremmo sostituirli Ma potremmo anche non sostituirli Perché potremmo anche non sostituirli? Perché già sappiamo che uno è positivo Quindi non può succedere niente di male Entrambe accettabili O se all'inizio siete insicuri Meglio fare una sostituzione in più Che uno in meno Però a priori già possiamo dire Che vanno bene Perché uno è positivo Questo qui quando è uguale a 1 È positivo pure lui Quindi non c'è rischio che l'argomento della radice sia negativa E quindi sono accettabili entrambe Queste due soluzioni Poi Ecco, quelli dopo cominciano ad essere un po' più interessanti Radice di x più 14 Uguale x più 2 Va bene Faccio il quadrato Faccio il quadrato E cosa ottengo? Ottengo x più 14 Uguale x più 2 al quadrato E quindi faccio i conti x più 14 Uguale x quadro Più 4x Più 4 Porto tutto dalla stessa parte x quadro Più 3x Meno 10 Uguale a 0 Quindi somma Uguale a meno 3 Prodotto uguale a meno 10 Si vede a occhio Meno 5 è 2 x uguale a meno 5 O x uguale a 2 Mi raccomando Fate la formula risolutiva Se non siete sicuri di questo modo di procedere A priori sappiamo già di sicuro che sono accettabili Non sappiamo che sono accettabili Lo sarebbero se questa cosa qui fosse positiva Vabbè Quindi sostituisco Sostituisco nell'equazione La soluzione cosa ottengo? Mettendo meno 5 Ottengo radice Di 9 Uguale Meno 3 E sotto Quando sostituisco x uguale a 2 Ottengo radice di 16 Uguale a 4 Quale è accettabile e quale no? Quella su non accettabile Cioè è una soluzione ottenuta dall'elevamento al quadrato Perché questa sarebbe 3 uguale a meno 3 Che non sono uguali Ma quando elevo al quadrato sì Quindi è una soluzione ottenuta Da quell'operazione lì abusiva E questa qui invece ok Questa va bene Quindi la soluzione C'è una sola soluzione De x uguale a 2 Si poteva prevedere a priori Semplicemente guardando quale delle due Rendeva positiva questa cosa qua Infatti se mettiamo meno 5 Qua diventa negativo Se invece mettiamo 2 2 più 2 è 4 Diventa positivo Quindi quello basterebbe Per prevedere la soluzione giusta Vabbè poi qui c'è quello successivo Che ovviamente è del tutto analogo Radice di x più 14 Uguale meno x meno 2 Facendo il quadrato Cosa otteniamo? x più 14 Uguale meno x meno 2 al quadrato C'è qualcosa di diverso da prima? No perché fare una cosa al quadrato A fare la cosa con il segno meno al quadrato Non cambia niente Quindi esattamente la stessa cosa Quindi il conto porta ugualmente a x Uguale a meno 5 E x uguale a 2 Cosa cambia? Questa volta cambia chi è accettabile e chi no Quindi se sostituisco Sostituisco Se sostituisco meno 5 Cosa diventa? Diventa radice Meno 5 più 14 Radice di 9 Uguale meno meno 5 Quindi 5 Meno 2 3 E quindi questa va bene Quella che prima non andava bene Ora va bene Perché ho cambiato il segno al secondo membro E quella sotto diventa Radice di Se metto 2 Radice di 16 Metto 2 Uguale a meno 4 E quindi questa no Quindi in questo caso Quella accettabile E quella sopra E non quella sotto Va bene Cambiamo pagina Ecco Cambiamo pagina Giusto per fare un paio di commenti Quando avete la radice cubica Radice cubica Di x meno 8 Uguale a 3 Ecco Con la radice cubica Così in generale Con le radici dispari Quindi radici di indice dispari Si può fare il cubo impuremente Cioè Non si rischiano Problemi alla fine Invece con la radice quadrata Così come con tutte le radici di indice pari Non si può elevare la potenza giusta Cioè si può Però alla fine bisogna controllare Quindi qui faccio il cubo impunemente Cosa ottengo facendo il cubo impunemente Ottengo x meno 8 Uguale a 3 al cubo Cioè 27 E quindi x uguale 35 Se avete problemi Fate comunque la sostituzione Così controllate Mettete x uguale a 35 dentro Diventa 35 Meno 8 Fa 27 Radice cubica di 27 Fa 3 E va bene Quello dopo c'è la radice quarta E la radice quarta è una seccatura Radice quarta Di x meno 8 Uguale a 3 Cioè Seccatura in questo caso non c'è Però Elevo Alla quarta Elevo alla quarta Cosa ottengo? x meno 8 Uguale a 3 alla quarta Quindi 81 E quindi x uguale a 89 Se vado a sostituire 89 meno 8 81 Radice quarta di 81 3 E' corretto Qui non si vede cosa può succedere Il problema succede se l'equazione fosse questa Radice quarta di x meno 8 Uguale a meno 3 Se qui elevo alla quarta Cosa ottengo? Ottengo x meno 8 Anche qui uguale a meno 3 alla quarta Ma meno 3 alla quarta Continuo a fare 81 Quindi x uguale a 89 Che non va bene Perché non va bene? Perché radice quarta Di 89 Meno 8 Non è Uguale a meno 3 Ma è uguale a più 3 Quindi c'è la solita faccenda del segno Che colpisce Se qui ci fosse stato il meno 3 In quello col cubo Con la radice cubica Potevo tranquillamente fare i cubi E andava bene Alla fine ottenevo che ne sono radice cubica Di meno 27 Che è meno 3 Quindi sulle potenze di indice Sulle radici di indice dispari Ci sono molti meno problemi Vabbè, facciamo ancora quelli con le radici In questa pagina Radice di x più 6 Radice di x più 6 Uguale a x Posso fare il quadrato? Sì Ma poi controllo Quindi faccio il quadrato Dove arrivo facendo il quadrato? x più 6 Uguale x al quadrato Quindi x quadro Meno x Meno 6 Uguale a 0 Vabbè, la somma Somma è uguale a 1 Prodotto è uguale a meno 6 3 E meno 2 x uguale a 3 E x uguale a meno 2 Chi è accettabile e chi no 3 è accettabile Perché? Messa dentro cosa diventa? Radice di 3 più 6 Uguale a 3 E questo va bene Meno 2 non accettabile No Perché? Cosa diventa? Radice di Meno 2 più 6 Uguale a meno 2 Insomma, le cose accettabili Sono quelle che rendono positivo Il termine a destra Facciamolo ancora uno di questa pagina Radice di x quadro più 4 Uguale a x più 2 Radice di x quadro più 4 Uguale a x più 2 Se sostituisco Faccio il quadrato Cosa? x alla seconda più 2 alla seconda Allora? Non mi dite che radice di x alla seconda Più 2 alla seconda Fa x più 2 Vorrebbe dire che radice di a più b È uguale a radice di a più radice di b Cosa vietatissima A forse l'avevo messo per questo Questo esercizio Perché qualcuno pensasse di Occhio, eh Non pensateci nemmeno per un istante Sì, sicuramente l'ho messo per questo Guarda Non pensateci neanche per un secondo Allora, se faccio il quadrato Cosa ottengo? Quindi x quadro più 4 Cosa diventa? Diventa 4x uguale a 0 E quindi x uguale a 0 x uguale a 0 va bene? Sostituisco e va bene E quindi c'è una soluzione che è x uguale a 0 Questo per quanto riguarda le equazioni Andiamo a fare qualche disequazione Ecco Vabbè, facciamo quelle semplici Radici di x più 1 Minore di 9 Allora, le disequazioni sono più complesse Perché le situazioni Le situazioni si complicano Cosa diventa questa? Una disequazione con una radice Diventa Un sistema Cosa devo mettere in quel sistema Devo mettere Che l'argomento della radice Sia maggiore o uguale a 0 Quindi devo mettere X più 1 Maggioro o uguale a 0 Questa è la condizione burocratica Perché esiste la radice Esistenza Pensatela come burocrazia Questa Perché affinché esista la radice Deve succedere questo Seconda disequazione del sistema Cosa metto? Quella ottenuta Facendo i quadrati Quindi la seconda che metto è X più 1 Minore di 81 Questo è fare i quadrati Cosa ottengo dalla prima? Dalla prima ottengo X maggiore o uguale di meno 1 Dalla seconda ottengo X minore di 80 E quindi la soluzione È l'intervallo Che va da meno 1 Fino a 80 Cioè maggiore o uguale di meno 1 E sotto 80 È l'intervallo Da meno 1 Fino a 80 Potete scrivere così O lo potete scrivere così anche Sono tutti modi di scrivere La stessa cosa Ecco facciamo invece i due Un po' più interessanti Che sono quelli verso il fondo Allora che aria tira qua? Vabbè diventa un sistema Quale sistema? A 3 X maggiore o uguale di 0 E questa è l'esistenza della radice Quindi la burocrazia Esistenza Della Radice Poi cosa devo mettere? X meno 2 Maggiori di 0 Perché? Perché se questo per caso fosse negativo Allora non c'è verso Negativo o nullo Allora qui sarebbe Negativo o nullo E questo è positivo O al più nullo Quindi non c'è speranza Quindi questo qui è Diciamo termina destra Maggiore o uguale di 0 Terza condizione Quella ottenuta da fare i quadrati Quindi X minore Di X meno 2 Al quadrato Questo è fare i quadrati Quindi è diventato un sistema 3 Perché in questo caso è diventato un sistema 3 E sopra è diventato un sistema 2 Perché sopra avrei dovuto mettere 9 maggiore o uguale di 0 Ma me la sono risparmiata Essendo una condizione piuttosto facilmente verificata Va bene Adesso non resta che risolvere il sistema Quindi la prima equazione La scriviamo La X maggiore o uguale di 0 La seconda X maggiore di 2 La terza X minore di X quadro Meno 4X Più 4 Quindi la prima rimane X maggiore o uguale di 0 La seconda rimane X maggiore di 2 E la terza Diventa X quadro Meno 5X Più 4 Maggiore di 0 Allora adesso Prima equazione Seconda equazione Terza equazione Andiamo a rappresentare il sistema col grafico La prima condizione che cos'è? Maggiore o uguale di 0 Quindi segno 0 Ecco, che tipo di grafico faccio? Metto dei più e dei meno? No, metto linee continue o punteggiate Quindi questa qui è la prima equazione La seconda equazione cosa faccio? La stessa cosa Con l'estremo 2 Quindi 2 Cosa cambia? Che non ci metto Il pallino in 2 Perché non metto qualcosa Per ricordarmi che 2 Non è compreso Ora la terza equazione Qual è la soluzione Della terza equazione? Di secondo grado Valori esterni Valori esterni a cosa? All'intervallo delle radici Che sono 1 e 4 Quindi segno 1, segno 4 E prendo i valori esterni Con gli estremi no Perché Quindi così E questa è la terza equazione E adesso cosa faccio? Devo prendere la zona E' un sistema Quindi zona comune Non la faccenda di più e meno Zona comune Qual è la zona comune? Questa è la zona comune Quindi la soluzione E' x maggiore di 4 Oppure volendo Si può scrivere come La semiretta da 4 A più infinito Ecco L'ultima che vi faccio Con le radici E' quella 2 dopo questa Se procedete con calma Non potete sbagliarvi Però dovete Dovete procedere con una certa calma Cosa diventa questa? Questa è quella con il maggiore Quindi questo diventa due sistemi Quindi diventa unione Unione Di due sistemi Quali sono i due sistemi? Il primo sistema è Questo negativo A destra negativo E questo che esiste Allora automaticamente verificata Perché è positivo maggiore di negativo Quindi questo negativo 2x meno 4 Minore di 0 E x più 1 Maggiore o uguale di 0 Questo è destra Negativa E questo è la burocrazia Insomma Cioè l'esistenza della radice Questo è il primo sistema Secondo sistema È sempre la burocrazia Che è sempre uguale Poi Destra positiva Positiva maggiore o uguale di 0 E poi Quella ottenuta facendo i quadrati Quindi x più 1 Maggiore Di 2x meno 4 Al quadrato E questo è fare i quadrati Come abbiamo detto ieri Di queste tre equazioni Una è inutile Perché segue dalle altre Quale è inutile? La prima che è inutile Perché Se x più 1 È maggiore di un quadrato Automaticamente x più 1 È maggiore di 0 Quindi questo è inutile Perché segue dalla terza Quindi si può anche non mettere Perché segue Dalla Terza equazione Del sistema Va bene Risolviamo i due sistemi Che qui non ci vuole molto Allora Vediamo il primo sistema Il primo sistema cosa diventa? Diventa 2x Minore di 4 x Maggiore o uguale di meno 1 Quindi diventa x Minore di 2 E x Maggiore o uguale di meno 1 Quindi la soluzione è Meno 1 Minore o uguale di x Minore stretto di 2 Questa è la soluzione Del primo sistema Maggiore di meno 1 Maggiore o uguale E sotto 2 Secondo sistema Secondo sistema Secondo sistema Forse c'è qualche conto da fare Secondo sistema Adesso ovviamente Sbattiamo via la prima equazione Tanto non serve Quindi usiamo le altre due 2x 2x maggiore o uguale di 4 E poi faccio quei quadrati x più 1 Maggiore di Cosa diventa questo? 4x quadro Meno doppio prodotto 2 per 2 4 meno 16x Quindi la prima diventa x Maggiore o uguale di 2 E la seconda diventa E la seconda diventa 4x quadro Non le vedo immediatamente a occhio Quindi facciamo la formula x 1 x 1 2 Uguale Che cos'è? 17 Più o meno Radice di 17 al quadrato Quanto fa? 289 Meno 4b 16 Meno 240 Diviso 8 Uguale 17 Più o meno Radice di 49 Che viene 7 Quindi Una cosa buona 8 Uguale 17 Più 7 Diviso 8 17 17 Meno 7 Diviso 8 17 più 7 Fa 24 24 diviso 8 Fa 3 17 Meno 7 Fa 10 10 diviso 8 5 quarti E poi io di questi numeri Devo prendere Valori Interni Adesso risolvo il primo sistema Il primo sistema Non l'ho ancora risolto Adesso devo fare un grafico Per risolvere il primo sistema Allora Allora La prima equazione Del primo sistema È x Maggiore o uguale Di 2 Quindi qui c'è 2 E questa è la prima equazione Prima equazione Secondo sistema Questa qui Adesso la seconda equazione Ho detto valori interni Tra 5 quarti e 3 Quindi 3 chiaramente sta qui 5 quarti dove sta? 5 quarti è poco più di 1 Meno di 2 Quindi 5 quarti Diciamo che sta qua E devo prendere valori interni Senza estremo Vedete come in questo esercizio C'è quasi tutto Questa seconda equazione Secondo sistema Zona comune È questa Quindi la soluzione Del secondo sistema È da 2 Fino a 3 Quindi cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto questa Che è la soluzione Del primo sistema 2 compreso? Sì 2 compreso Quindi questa che abbiamo ottenuto qui È la soluzione Del primo sistema E questa che abbiamo ottenuto qui E' la soluzione Del secondo sistema Adesso otteniamoli insieme Cosa dobbiamo fare di queste due cose? L'unione L'unione cosa diventa? Qui andiamo da meno 1 a 2 2 escluso Qui andiamo da 2 compreso A 3 escluso Quindi l'unione È da meno 1 Fino a 3 Quindi soluzione Equazione iniziale Uguale Unione soluzioni Uguale Da meno 1 Fino a 3 E questa è la soluzione generale Ti ho visto che abbiamo fatto un po' di tutto Abbiamo fatto due sistemi Nel sistema c'era un'equazione di secondo grado Valori esterni e valori interni Ma sono tutte operazioni di per sé elementari Però bisogna concatenarne il 7 e 8 Nell'ordine giusto Se uno si sbaglia Fai più o meno Succede di tutto Va bene Valore assoluto Che cos'è il valore assoluto di un numero? Allora detto brutalmente Questo ho detto molto brutalmente Il numero senza segno È un modo assurdo di dire le cose Diventa positivo Insomma Con il segno più davanti Detto un po' meglio Detto meglio Valore assoluto di x Si indica con questo modo qua Due sbarrette attorno Ma questo lo sapete È uguale a x Cioè il numero stesso Quando? Quando è che il valore assoluto di un numero È uguale al numero stesso? Se il numero È maggiore o uguale di 0 Se il numero è positivo Il valore assoluto è il numero stesso Se invece è negativo È dire Privarlo del segno Come avete detto brutalmente un attimo fa Equivale a Cambiarlo di segno Quindi è meno x Se x è minore di 0 Dovesse rappresentare Questa cosa con un grafico Come diventerebbe? Se qui c'è x Allora il valore assoluto di un numero x È il numero x stesso Per x positivo È il numero stesso E per x negativo È il numero stesso Cambiato di segno Quindi il grafico del valore assoluto È una cosa di questo tipo qua Adesso poi i grafici Si vedono meglio durante i corsi Però Questo rende un po' l'idea Quindi il valore assoluto di meno 2 Se io prendo qui meno 2 Il valore assoluto di meno 2 Lo riporto su E vedo che è 2 Così come il valore assoluto di 2 Viene 2 Ecco Vediamo questa cosa qui che è all'inizio Il valore assoluto di x più 3 Che cos'è? Altrimenti detto Quando è che il valore assoluto di x più 3 È uguale a x più 3? Quando x è maggiore o uguale di 0? No Quando? Riccomando x più 3 È maggiore o uguale di 0 Mi raccomando Non fate l'errore Se x più 3 È maggiore o uguale di 0 Cioè Se x È maggiore o uguale di meno 3 E il valore assoluto di x più 3 È uguale a meno x meno 3 Cioè la stessa cosa cambiata di segno Se x più 3 È minore di 0 Cioè Se x è Minore di meno 3 Quindi diciamo Qui lo spartiacque Per valore assoluto di x Lo spartiacque È tra dove è positivo x Cioè lo spartiacque è a 0 sostanzialmente Sopra 0 in un modo Sotto 0 in un altro Per l'espressione x più 3 Il valore assoluto di x più 3 Lo spartiacque È a meno 3 Cioè dove si annulla l'argomento Poi dove l'argomento è positivo Non succede niente Come il valore assoluto non ci fosse Dove l'argomento è negativo Il valore assoluto Vuol dire cambiare il segno Allora Come si risolve un'equazione? Vabbè La più semplice equazione Con il valore assoluto Valore assoluto di x Uguale a 5 Quali sono i numeri Che hanno come valore assoluto 5 Sono 2 5 E meno 5 Quindi questo x uguale a 5 E x uguale a meno 5 È chiaro questo? Di positivi Sui positivi Il valore assoluto è il numero stesso Quindi se è positivo Deve essere 5 Se è negativo Deve essere Lo stesso cambiato di segno Quindi è meno 5 Tutti d'accordo su questa? Radice di x più 3 Sì radice Valore assoluto di x più 3 Uguale a 5 Quindi quanto può valere x più 3 Facciamo un passaggino x più 3 da solo Può valere Se il suo valore assoluto è 5 Vuol dire che x più 3 vale 5 Quindi la prima possibilità è x più 3 uguale a 5 E la seconda possibilità è x più 3 uguale a meno 5 Quindi nel primo caso trovate x uguale a 2 Nel secondo caso trovate x uguale a meno 8 Sostituiamo tanto per vedere cosa succede Sostituiamo x uguale a 2 Cosa diventa? 2 più 3 Valore assoluto di 5 uguale a 5 Sostituiamo meno 8 Meno 8 più 3 fa Meno 5 Valore assoluto di meno 5 è 5 Avete capito cosa succede? Ci sono due possibilità Una in cui qui dentro viene 5 E una in cui qui dentro viene meno 5 In generale Facciamone ancora una Facciamo radice di Ecco facciamo questa qui Radice di x quadro meno 1 Sì, valore assoluto di x quadro meno 1 Uguale a 10 Quali sono le possibilità? Quanto può valere x quadro meno 1? O 10 O meno 10 Quindi abbiamo che x quadro meno 1 Può essere 10 O può essere meno 10 Quindi nel primo caso Cosa abbiamo ottenuto? x quadro meno 1 uguale a 10 E nel secondo caso abbiamo ottenuto x quadro meno 1 uguale a meno 10 Adesso qui diventa x quadro uguale a 11 E quindi x quadro più o meno radice di 11 Il secondo caso diventa x quadro uguale a meno 9 E quindi da qui nulla Quindi quante sono le soluzioni? Sono due Entrambe provenienti Dalla parte alta Quindi allora in generale Cerchiamo di capire in generale Cosa vuol dire questo In generale Un'equazione Del tipo Valore assoluto Di un mostro Uguale A 5 Cosa diventa? Diventano due equazioni D'accordo? Diventa l'unione L'unione Di due equazioni Prima equazione qual è? Mostro Uguale a 5 La seconda equazione è Mostro Uguale a meno 5 Ho scritto mostro perché può esserci una qualunque espressione comunque complicata Chi se ne frega Può esserci Quadrati Cubi Di tutto Qualunque cosa Si tratta sempre allo stesso modo Ecco Questo è il caso semplice Perché questo è il caso semplice? Questo è il caso semplice perché Valore assoluto Uguale Un numero Questo lo rende particolarmente semplice Quindi questo discorso Discorso Vale Per equazioni Del tipo Valore assoluto di qualcosa Valore assoluto Uguale numero Chiara la struttura C'è un valore assoluto di una cosa comunque complicata Anche mostruosa Uguale a un numero Diventano due equazioni Il mostro uguale al numero E il mostro uguale al numero cambiato di segno O se ci fosse mostro uguale a meno 5 Nota bene Valore assoluto di mostro Uguale a meno 5 Valore assoluto può diventare negativo No, quindi non la sto neanche a guardare Scrivo subito Che non ci sono soluzioni Quindi non ci sono soluzioni Perché Un valore assoluto È sempre Maggiore o uguale a zero Quindi non può venire a meno 5 Quindi quello che ho detto funziona Se c'è un numero positivo o nullo Va bene Questa era l'equazione L'equazione più semplice ovviamente La disequazione più semplice Valore assoluto di x Minore di 5 Questa è la disequazione più semplice Con un valore assoluto Quali sono i numeri Che hanno un valore assoluto Più piccolo di 5 Intanto Sui positivi Sono tutti i numeri positivi Tra 0 e 5 E sui negativi Simmetricamente Quelli da 0 fino a meno 5 Quindi la soluzione di questa è Ritorno a questo pensando Cosa è il valore assoluto Cioè per avere un valore assoluto Minore di 5 Bisogna o essere positivi E stare sotto 5 O essere negativi Però più piccoli di 5 Una volta tolto il segno Quindi insomma Quelli tra meno 5 e 5 Lo so che molti di voi Hanno il procedimento Di dividere in zone Bla 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 Questo varrà Appena la disequazione Diventerà un po' più complicata Di questa Ma almeno in questi casi semplici Si può vedere Automaticamente Così X più 3 Minore di 5 X più 3 Deve essere compreso Tra 5 e meno 5 Quindi questo è come dire X più 3 Minore di 5 E X più 3 Maggiore di meno 5 Quindi cosa vuol dire Che tra queste due cose qui c'è Anche qui questa condizione Potevo scriverla Folcloristicamente Come X Minore di 5 E X Maggiore di meno 5 L'ho scritta così Perché era più comodo Ma in realtà Sono due condizioni Sono due disuguaglianze scritte Che devono essere vere entrambe Quindi un sistema Devono essere verificate Tutte e due Quindi in questo caso Diventa un sistema Quindi la prima cosa darebbe? La prima darebbe X Minore di 2 La seconda darebbe X maggiore di meno 8 E quindi diventa Meno 8 Minore di X Minore di 2 Poi alla fine si può scrivere In questa maniera qua Però È un sistema Quindi in generale In generale La disequazione La disequazione Valore assoluto Di mostro Minore di un numero Minore di un numero Diamo di 8 Diventa Che cosa? Un sistema Cosa vuol dire Che il valore assoluto Del mostro È più piccolo Di 8 Vuol dire Che il mostro È più piccolo Di 8 E il mostro È più grande Di meno 8 Ritorna come modo Di procedere Per avere Il valore assoluto Più piccolo Di 8 Vuol dire Essere più piccolo Di 8 E più grande Di meno 8 Quindi diventa Il sistema Le due si risolvono Valore assoluto Non ce n'è più Diventano Disequazioni precedenti E non c'è più Nessuna seccatura Ecco Questo se il numero Che c'è di là È Positivo Se il numero Che c'è di là È negativo Mostro Minore di Meno 8 Questo è impossibile Impossibile Quindi nessuna soluzione Quindi la soluzione L'insieme è vuoto Perché Un valore assoluto Non può essere negativo E se fosse Mostro Maggiore di Meno 8 Sempre Per ogni X appartenente a R Allora Diciamo Sempre verificata Perché Il mostro Abbia senso Cioè potrebbero esserci Nel mostro Potrebbero esserci Dei logaritmi Delle radici Altre cose Che impongono Delle condizioni Burocratiche Perché il mostro Abbia senso Cioè è verificata Per tutti i valori di X Per tutti i valori Di X Per cui Il mostro è definito Esempio Se io la disequazione Valore assoluto Di X Meno 2 Più Anzi Meno Meno 8 Maggiore di Meno 3 La soluzione Di questa Cos'è? Vedete Complicata Radici Valore assoluto Chissà cosa c'è da fare Soluzione? Esprimetevi X Maggiore o uguale Di 2 Perché E' sempre Verificata Purché Il mostro Abbia senso Chi è il mostro In questo caso? Questa roba qua dentro Questa roba qua dentro Quando è che ha senso? Ha senso Quando ha senso La radice Quando è che ha senso La radice Quando è X Meno 2 Maggiore o uguale Di 0 Diciamo Tutto questo Che sarebbe Il mostro È definito Purché La radice Abbia senso Cioè Per X Meno 2 Maggiore o uguale Di 0 Che porta Questa condizione Qua Vi torna? Allora Queste sono quelle Elementari Insomma Perché elementari? Tutto questo Vale Valore Quando c'è Valore assoluto Minore di un numero O se c'è Maggiore O se c'è maggiore Cosa cambia? Questo ve lo scrivo Qui in un angolo Tanto è cortissimo Se fosse mostro Valore assoluto di mostro Maggiore di 4 Questo cosa diventa? Che sistema diventa? Come fa Un valore assoluto A essere maggiore di 4 O l'argomento È maggiore di 4 Quindi diventa Mostro Oppure Devo fare il sistema Tra le due? Se faccio il sistema Capite che è una stupidaggine Vorrebbe dire Che il mostro È contemporaneamente Maggiore di 4 E minore di meno 4 Farà fatica A essere contemporaneamente Sopra 4 E sotto meno 4 Quindi non devo fare il sistema Cosa devo fare? Devo fare Tra le due L'unione Vedete com'è facile Ingannarsi Queste due qui Devo risolvere Separatamente E queste sono quelle Valore assoluto contro numero Un po' più complicato Vi faccio un esempio È il caso Valore assoluto contro funzione Valore assoluto di x più 2 Valore assoluto di x più 2 Maggiore di x2x più 5 Allora capite che questa è un'altra famiglia Non è più valore assoluto contro numero Ma è valore assoluto contro mostro Contro mostro Mostro 1 Maggiore di mostro 1 Maggiore di mostro 2 Allora qui cosa bisogna fare? Qui bisogna armarsi di pazienza E bisogna distinguere i casi Queste sono quelle un po' più delicate Cosa vuol dire distinguere i casi? I casi sono due Come ho fatto a distinguere i casi? A seconda che l'argomento del valore assoluto Sia positivo o negativo Perché abbiamo visto che il valore assoluto Quanto vale Dipende dal segno dell'argomento dentro Allora se il valore assoluto di x più 2 È maggiore o uguale di 0 Che cos'è il valore assoluto di x più 2? È x più 2 stesso Quindi questa diventa x più 2 Maggiore di 2x più 5 Ho tolto il valore assoluto perché Se l'argomento è positivo Il valore assoluto è come non ci fosse Se l'argomento è negativo Il valore assoluto Che cosa diventa? Meno x Meno 2 Maggiore di 2x più 5 Questo perché Il valore assoluto In questo caso È l'argomento È il suo argomento Diciamo Cambiato di segno Per la cosa che ho detto prima Quando l'argomento è positivo Il valore assoluto è come non ci fosse Quando l'argomento è negativo Il valore assoluto vuol dire cambiare di segno Adesso cosa devo fare? Adesso valori assoluti non ce n'è più C'è solo da stabilire cosa fare Risolvo i due sistemi E poi li unisco Quindi Tra i due sistemi c'è l'unione È un po' come con le radici C'erano due casi E poi bisognava fare l'unione Quindi risolvo separatamente E faccio l'unione E adesso è roba tranquillissima Risolvere separatamente non è un problema Il primo sistema Il primo sistema cosa dà? Dà X maggiore o uguale di meno 2 E la seconda X minore Sto portando di là X Maggiore o uguale di meno 3 Quindi il primo sistema cosa dà come soluzione? Maggiore o uguale di meno 2 E sotto meno 3 Quindi la soluzione del primo sistema È l'insieme vuoto Non ci sono soluzioni del primo sistema Quindi questo qui è soluzione È il vuoto Il secondo sistema Il secondo sistema cosa dà come soluzione? Allora la prima diventa X minore di meno 2 E la seconda diventa Porto di là Quindi 3X 3X minore di meno 7 Quindi X minore di meno 2 E X minore di meno 7 terzi Quindi la soluzione Deve essere sotto 2 E sotto meno 7 terzi La più restrittiva Sipiamo bene il disegno Qui c'è meno 2 E meno 7 terzi Dove sta? Qui Deve essere più piccolo di 2 E più piccolo di meno 7 terzi Quindi diventa più piccolo di 7 Quindi soluzione Soluzione del secondo sistema Soluzione del secondo sistema È X minore di meno 7 terzi Adesso devo fare l'unione Capite che l'unione è stupida in questo caso Devo unire l'insieme vuoto Con X minore di meno 7 terzi Quindi l'unione diventa X minore di meno 7 terzi Unione Uguale X minore di meno 7 terzi Ecco, vi faccio un ultimo esempio In cui l'unione sia veramente da fare Non sia stupida come in questo caso Quindi facciamo un esempio In cui l'unione sarà veramente da fare Oh, la domanda che potreste farmi È cosa succede se ci sono 5 o 6 valori assoluti? Diventano tantissimi sistemi A seconda dei casi Però intanto impariamo il caso in cui ce n'è uno E poi chi è più esperto Si butterà nei casi con più valori assoluti Questa diventa quali sistemi? Quali sono i casi da distinguere? Allora, nel primo caso Cosa scrivo? X meno 3 E nel secondo caso Meno X più 3 Qui ho cambiato di segno l'argomento Argomento, cambiato di segno Del valore assoluto, cambiato di segno E tra i due devo fare l'unione Questo è il primo sistema E questo è il secondo sistema Benissimo Benissimo Allora, soluzione del primo sistema X meno 3 Maggiore uguale di zero X meno 3 Maggiore di 2X più 4 Lo scriviamo Diventa X maggiore uguale di 3 E porto di là Diventa X Minore di meno 7 Vabbè, anche qui viene vuoto Pazienza Quindi questa Vuoto Anche questa Sì, dovevo mettere il 2 dentro Per farlo venire Vabbè, ma non importa Nessuna soluzione Il secondo sistema Il secondo sistema Diventa X meno 3 Quindi X minore di 3 E 3X Minore di 7 Di meno 7 Di meno Cosa devo fare? Devo meno 1 Quindi X minore di 3 E X minore di meno un terzo Cosa diventa? X minore di meno un terzo Che è anche la soluzione generale Va bene, facciamo una pausa Poi ne fate qualcuno voi Allora, io so che ci sono persone Che sono un po' più avanti Nel senso che stanno facendo esercizi Un po' più difficili Io qui cerco di fare insieme Quelli basilari Quindi cerco di portare tutti A un livello di base Minimo accettabile Allora, va bene Equazione X meno 1 uguale a meno 3 Così Questa Impossibile Nessuna soluzione Perché nessuna soluzione? Perché un valore assoluto E' sempre positivo Quindi di sicuro Non può valere un terzo D'accordo? Impossibile perché Che cosa dipende Radice di X No, si radice Valore assoluto di X meno 8 Uguale a 0 Quando è che un valore assoluto Vale 0? Un valore assoluto vale 0 Se è soltanto 6 L'argomento è 0 Questa se è soltanto 6 X meno 8 Uguale a 0 Cioè se è soltanto 6 X uguale a 8 Questo è un caso Particolarmente semplice Di equazione con valore assoluto Quella in cui è uguale a 0 Valore assoluto è sempre una solo Quando l'argomento è 0 E infatti quando c'è Un valore assoluto di X meno 8 Uguale a 3 Allora qui Si che ci sono due casi C'è il caso Quindi X meno 8 Uguale a 3 Nel caso con X meno 8 Uguale a meno 3 Qui sopra X uguale a 11 Qui sotto Meno 3 Qui sotto X uguale a 5 Ecco una che mi avete chiesto in tanti E' questa Radice di X più 14 Uguale valore assoluto di X più 2 E la domanda che mi avete fatto in tanti È posso fare i quadrati Devo mettere delle condizioni Beh uno Supercauto cosa direte Voglio fare i quadrati ma Cerchiamo di stare tranquilli Quindi cosa mettiamo? X più 14 Maggiore o uguale a 0 E questa cosa sarebbe? Burocrazia Della radice Quindi facciamo i supercauti Poi Visto che voglio fare i quadrati Mi devo assicurare che questo non sia negativo Quindi mettiamo Valore assoluto di X più 2 Maggiore o uguale a 0 Perché se è negativo Non può essere c'evole Anza Positivo uguale a negativo Terzo caso Terza equazione Quindi questo P è il termine a destra Termine a destra Maggiore o uguale a 0 Terza cosa che devo imporre Sono i quadrati Quindi tolgo la radice X più 14 Uguale X più 2 Al quadrato E questo è fare i quadrati Quindi abbiamo ottenuto un sistema Abbiamo ottenuto un sistema Di tre disequazioni Adesso guardiamone un attimo Queste tre disequazioni La seconda La seconda è una banalità Perché è un valore assoluto Maggiore o uguale a 0 Ci siete? Questa qui è Sempre verificata Verificata Perché è un valore assoluto Maggiore o uguale a 0 La prima Segue dalla terza Perché Se X più 14 è uguale a un quadrato Allora è maggiore o uguale a 0 Segue dalla terza Quindi alla fine Basta che faccia la terza Quindi tutto si riduce A fare la terza Ecco Quando faccio i quadrati Quindi tutto si riduce Alla terza Riduce Alla terza Che è un'equazione Direttore Ecco la terza Quando faccio i quadrati X più 14 Qui è l'unica cosa da imparare Quanto fa il quadrato Di valore assoluto Di X più 2 Fare il quadrato Di valore assoluto E come il valore assoluto Non ci fosse Perché che sia più Che sia meno Quando faccio il quadrato Il segno meno eventuale Se ne va Quindi Questo è X quadro Più 4X Più 4 Cosa ho usato? Nota bene Il valore assoluto Di A al quadrato È uguale ad A al quadrato Per ogni numero reale A Per ogni numero Reale A Questo vi torna? Per quali potenze Vale questo discorso? Per tutte le potenze Che distruggono il segno Quindi per tutte le potenze pari Per ogni numero reale A Idem Per potenze pari Giustamente qualcuno mi chiede Sulle potenze dispari Potenze dispari Non servono un segno Quindi Valore assoluto Di A al cubo È vero che è uguale ad A al cubo? Questo solo Solo per A Maggiore o uguale di 0 In generale In generale Valore assoluto di A al cubo È vero è questa Per ogni numero reale A È vero è questa Perché? Perché se è positivo Come valore assoluto Non ci fosse Se è negativo C'è un meno Del cubo di A al 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 vabbè, da qui poi si risolve questa qui l'abbiamo fatta già prima e si trovano le soluzioni ecco, poi ci sono queste qui che in tanti mi avete chiesto adesso non vi faccio quella con le infinite soluzioni perché è più seccante delle altre vi faccio quella sotto che ne ha un numero finito ecco, valore assoluto di x più 2 più valore assoluto di x più 4 uguale a 6 quindi due valore assoluti due valore assoluti non devono stressare più di tanto due valore assoluti vuol dire che i casi sono 4 cioè un valore assoluto, due casi due valore assoluti, quattro casi tre valore assoluti, otto casi quali sono i casi? x più 2 maggiore o uguale di 0 x più 4, a me qui interessa l'impostazione poi in realtà sono 4 casi per modo di dire adesso vedremo perché sono 4 casi per modo di dire e poi in questo caso qui cosa scriviamo? in questo caso qui valore assoluti essendo di roba positiva e come non ci fossero quindi x più 2 più x più 4 uguale a 6 questo è il primo caso secondo caso x più 2 maggiore o uguale di 0 il primo positivo e il secondo negativo cosa diventa in questo caso? il primo positivo il secondo negativo meno x meno 4 uguale a 6 terzo caso cosa sarà? il primo negativo il secondo maggiore o uguale di 0 quando sostituisco cosa diventa? meno x meno 2 più x più 4 uguale a 6 e infine c'è il quarto caso in cui sono tutti negativi x più 2 minore di 0 x più 4 minore di 0 e quindi cambia tutti i segni meno x meno 2 meno x meno 4 uguale a 6 cosa dovrei fare ora? ora dovrei risolvere allora io ho visto girando ho visto che molte persone hanno semplicemente scritto le quattro equazioni senza mettere all'interno di un sistema con le condizioni che avevano portato a scrivere quelle frazioni e io consiglio di fare così si può anche fare nell'altro modo cioè semplicemente scrivere le quattro equazioni ma poi bisogna verificare per sostituzione che le soluzioni vanno bene adesso fatto questo cosa dovrebbe fare uno? ora occorre risolvere occorre risolvere le quattro equazioni controllando che le soluzioni trovate stiano nella zona corrispondente mi spiego prendiamo il primo andiamo a risolvere il primo risolvo solo l'equazione cosa diventa l'equazione? l'equazione era x più 2 più x più 4 uguale a 6 quindi l'equazione diventa 2x più 6 uguale a 6 quindi x uguale a 0 la soluzione è x uguale a 0 verifica le due disuguaglianze che ho scritto sottra? sì questa verifica le due disuguaglianze scritte in quel ramo che stiamo considerando verifica x più 2 maggiore o uguale a 0 e x più 4 maggiore o uguale a 0 quindi va bene quindi per ogni soluzione trovata bisogna verificare che soddisfi le rispettive disuguaglianze scritte se no in alternativa si risolvono tutte quante poi si controlla sostituendo l'equazione che però è un metodo ecco vi dicevo che c'erano quattro casi in realtà i casi sono tre perché i casi sono tre perché uno di questi casi verrà automaticamente vuoto qual è il caso che viene vuoto come fa a essere questo secondo caso qui vedete cosa c'è scritto in questo secondo caso qui c'è scritto che x è maggiore di meno 2 e qui c'è scritto che x è minore di meno 4 quindi questo qui è chiaramente impossibile quindi dei quattro casi uno è impossibile subito cioè qualunque x troviate qui sotto non potrà verificare contemporaneamente le due cose scritte qua va bene comunque questi con due valori assoluti rientrano già in una categoria un po' più elevata vi faccio questo con il 3 questo qui è interessante esempio di diseguazioni x quadro meno 3 minore di 1 questo in quale categoria rientra di quelle che abbiamo visto oggi rientra in questa categoria qui e questo cosa produceva produceva il sistema x quadro meno 3 minore di 1 e x quadro meno 3 maggiore di meno 1 va bene adesso risolviamo queste queste diventi x quadro meno 2 minore di 0 meno 4 x quadro meno 4 minore di 0 e x quadro meno 2 minore di 0 adesso mi raccomando l'ho rivisto oggi però speravo di non rivederlo più e sì maggiore di 0 l'ho rivisto oggi per favore non scrivete mai queste cose sicurezza di fare sbagliato queste qui che cosa sono? sono diseguazioni di secondo grado e come tali vanno trattate valori interni valori esterni che voi non vedete il termine con la x e la fate rientrare in un'altra categoria portate il 4 di l'albero e di là e succede di tutto vi è chiaro che questo è un errore ma vi è chiaro qui poi quando dovete farlo la tentazione c'è quindi valori interni valori esterni quindi quando vado a scrivere le soluzioni di questa cosa sono? quando vado a fare il sistema la prima quando è verificata valori interni è che cosa? meno 2 2 meno 2 2 valori interni quindi che tipo di rappresentazione faccio? è quella con la linea? estreme esclusi la seconda? valori esterni che cosa? meno radice di 2 e più radice di 2 mi raccomando non sbagliate ordinari valori sulla retta valori esterni adesso cosa devo prendere? il sistema quindi quindi alla fine la soluzione è da meno 2 fino a meno radice di 2 e poi da radice di 2 fino a 2 questa è la soluzione ritorna sono tutti passaggi semplici uno per uno ma stabilire il percorso tra i passaggi la cosa è difficile all'inizio questa rientra in questa categoria P del mostro il mostro diventa un sistema il sistema comprende due disequazioni di secondo grado le risolvo e faccio la zona con l'inizio ecco adesso faccio qualcuna di quelle che erano messe alla lavagna perché contengono degli errori tipici quindi cose da evitare allora vediamo questa questa potrebbe essere una classica disequazione da testinare in che categoria rientra questa? di quelle con i prodotti questo è un prodotto di due fattori quindi primo fattore e secondo fattore studio separatamente i due fattori e poi faccio la faccenda dei più e dei meno quindi primo fattore e secondo fattore iniziamo da quello più semplice secondo fattore secondo fattore che cos'è? è il c più 3 è importante quello che c'è scritto qui assolutamente no me ne frego di quello che c'è scritto qui e lo tirerò in bala soltanto alla fine allora il c più 3 come è fatto? se qui c'è 3 meno 3 anzi sopra meno 3 d'accordo? sopra meno 3 è positivo sotto meno 3 è negativo vediamo il primo fattore che è quello 3 alla x più 3 meno 3 cosa voglio fare di questo? voglio studiare il segno voglio sapere voglio sapere dove è positivo dove è negativo e dove è nullo va bene allora io metto maggiore di 0 tanto per mettere qualcosa cerco dove è positivo poi dico dove non sarà positivo sarà negativo come si fa questa? stessa base dunque la stessa relazione tra gli esponenti x più 3 maggiore di 1 quindi x maggiore di meno 2 quindi se devo rappresentare il secondo fattore come lo rappresento? qui c'è meno 2 sopra è sopra meno 2 è positivo e sotto meno 2 è negativo quindi adesso vado a mettere insieme i due fattori qui c'è il primo fattore qui c'è il secondo fattore qui c'è meno 3 qui c'è meno 2 il primo il primo è quello con meno 2 quindi il primo è così il secondo com'è? il secondo è lo stesso con meno 3 quindi quando faccio la faccenda di più di meno più meno più a me cosa serve? maggiore o uguale di 0 quindi mi serve richiedendo maggiore o uguale di 0 la soluzione è diciamo fino a meno 3 quindi da meno infinito fino a meno 3 unito da meno 2 a più infinito procedimento oh poi io vi dico fatemi furbi quando trovate una soluzione del genere andate a sostituire qualche valore che sta in questa zona qualche valore che sta in questa zona sostituite negli estremi sostituite qualche valore che non ci sta dentro così verificate almeno in casi semplici come questo è sufficiente o no cioè io metterei lì sostituirei meno 2 e vedrei cosa succede poi sostituirei 1 per vedere se va bene giusto per controllare ecco importantissimo è il successivo perché secondo me se lo risolvete in molti lo sbagliano infatti probabilmente l'avete sbagliato se l'avete provato allora io vi faccio la soluzione sbagliata questo è il primo fattore e questo è il secondo fattore vabbè il primo fattore non l'ho sbagliato spero mai dire mai cosa segnate meno 4 dov'è positivo il meno 4 si annulla sopra è positivo e sotto è negativo fin qui non ci sono problemi secondo fattore secondo fattore come logaritmo in base 2 di x più 2 allora voi dite cerchiamo di capire il segno quindi cerchiamo di capire che è positivo e vabbè questa potete scriverla anche così logaritmo in base 2 di x più 2 maggiore di logaritmo in base 2 di 1 se non vedete a occhio il passaggio quindi diventa x più 2 maggiore di 1 e quindi x maggiore di meno 1 quindi come si può rappresentare il secondo fattore meno 1 qui è più qui è meno andiamo a mettere insieme i punti importanti erano meno 4 e meno 1 e lascio dello spazio in mezzo volutamente primo fattore e secondo fattore se andate a fare la rappresentazione facciamo i più e qui meno qui più e qui meno quindi cosa vi verrebbe da dire più meno più cosa interessa maggiore di 0 quindi verrebbe da dire prima di meno 4 e dopo meno 1 allora questo è sbagliato cosa è sbagliato? è sbagliato questo disegno qua cosa? è sempre maggiore di 0? qual è l'errore nell'aver fatto questo disegno? noi ci siamo chiesti quando è maggiore di 0 abbiamo capito che era maggiore di 0 per x maggiore di meno 1 e abbiamo correttamente messo i più p poi abbiamo detto dove non è positivo sarà negativo non è vero che dove non è positivo sarà negativo perché non ci sono solo 3 casi positivo nullo negativo i casi sono 4 positivo negativo nullo e non esistente cosa che ai logaritmi succede quindi questo qui mi raccomando no qua e quindi no qua quindi adesso facciamo il secondo fattore come si deve secondo fattore come si deve allora allora abbiamo logaritmo in base 2 di x più 2 maggiore di 0 e questo diventa x più 2 maggiore di 1 x maggiore di meno 1 come prima questo come prima e va bene ma dov'è che è negativo logaritmo in base 2 di x più 2 minore di 0 dove è questo questo non diventa semplicemente vabbè questo si può scrivere come logaritmo in base 2 di x più 2 minore di logaritmo in base 2 di 1 ma questo non diventa semplicemente x più 2 minore di 1 ma bisogna anche aggiungerci x più 2 maggiore di 0 diciamo questo è togliere i logaritmi e questa sotto che cos'è? la burocrazia dell'ogaritmo e quindi questo qui come soluzione cosa dà? questo dà x minore di meno 1 ma questo dà x maggiore di meno 2 quindi quando vado a fare il disegno del secondo fattore cosa devo disegnare? come lo devo rappresentare il secondo fattore? qui c'è meno 2 qui c'è meno 1 allora in meno 1 si annulla e mi sta bene sopra meno 1 e più e mi sta bene dov'è che è negativo? tra meno 2 e meno 1 e prima di meno 2 che cos'è? non esiste inventatevi una notazione inventatevi quel che volete ma qui facciamo lo bello spesso che si veda qui non esiste quindi quando andate a fare lo schemino mettendo insieme i due fattori e io qui sfrutto quando andate a mettere insieme i due fattori il secondo fattore cosa bisogna aggiungere? intanto questi più e meno vanno cancellati il secondo fattore non va rappresentato così ma il secondo fattore c'è anche il meno 2 quindi qui c'è il meno 2 e qui è tutta zona di non esistenza segnatela col fulmine segnatela come vi pare quindi quando fate la faccenda di più e di meno cosa vi trovate? qui che non esiste qui vi trovate meno e qui vi trovate più quindi visto che la disequazione chiedeva più chiaro qual è l'errore tipico dire che dove non è più è meno ci sono delle zone che non esiste che vanno marcate nettamente cosa? volendo uno poteva alla fine poteva è chiaro uno poteva risolvere come nel metodo 1 questo metodo sbagliato e poi intersecare con la zona di esistenza che è la stessa insomma il problema è la burocrazia dell'esistenza dell'ogaritmo ve ne faccio ancora uno e poi vi faccio questo qui che molte persone me l'hanno chiesto come si fa come si fa con questo adesso 3 alla x uguale a t y come volete il microfono cosa diventa? diventa t questa come si risolve? questa è una disequazione di secondo grado si porta tutto dalla stessa parte t quadro più t meno 6 maggiore di 0 quindi valori esterni chi sono le radici? prodotto meno 6 somma meno 1 quindi meno 3 è 2 quindi le soluzioni valori esterni vuol dire t minore di meno 3 oppure t maggiore di 2 valori esterni vuol dire questo cosa succede quando ritorno in x? ora ritorno in x cosa diventa quando ritorno in x? diventa 3 alla x minore di meno 3 oppure 3 alla x maggiore di 2 cosa vuol dire questo oppure? che devo fare il sistema tra le due condizioni e devo fare l'unione di fronte a una scelta binaria queste vanno bene come soluzioni queste vanno bene come soluzioni se io dico che qui deve venire adesso che darò 10 euro a quelli che fanno telecomunicazioni oppure a quelli che fanno informatica chi mi ritrovo davanti l'unione o l'intersezione dei due insiemi? mi ritrovo l'unione se vi dico do 10 euro a quelli di telecomunicazioni oppure a quelli di informatica vengono i due gruppi da me a prendere 10 euro e quindi viene l'unione allora questo cosa produce? 3 alla x minore di meno 3 questo produce nulla 3 alla x non sarà mai negativo quindi qui nulla perché 3 alla x è maggiore di 0 sempre e questo cosa produce? 3 alla x maggiore di 2 l'abbiamo visto mille volte produce x maggiore di logaritmo in base 3 di 2 e quindi alla fine la soluzione generale quindi la soluzione della disequazione della disequazione è x maggiore di logaritmo in base 3 di 2 allora consiglio che vi do è quello di farvi tutti gli esercizi fino a disequazioni 7 compreso più gli esercizi in fondo a risposta multipla sugli argomenti che abbiamo visto se avete problemi su quelli martedì prossimo ve li chiedete ci vediamo martedì lunedì non c'è martedì